Il coordinatore della confederazione, Michele Adisa. Hanno sempre un compito molto arduo, parlare dopo Nando, parlare dopo una ringa di Lino Patruno è qualcosa di un po' particolare, crea qualche problema. Io volevo aggiungere qualche altra cosa a Lino Patruno, blocco sociale, si è parlato poc'anzi di blocco sociale e devo dirti che il blocco sociale che abbiamo dimenticato è anche quello del popolo che tutti i giorni ha seri problemi di sopravvivenza. E' giustissimo, certamente, incentivare le attività delle nostre banche, l'attività dei nostri imprenditori. Però vi voglio dire, guardate, con tutto quello che ci sta accadendo in questi giorni, da 150 anni, quello che ci sta accadendo è di una tale gravità che quando la nostra amica Angela, Angela, che viene dalla Calabria e parla di delinquenza, di criminalità, di mafia o di quant'altro. E noi dimentichiamo perché noi abbiamo problemi di questa gravità. E' evidente che queste organizzazioni oggi non hanno più niente da spolpare da queste parti e sono andate anche al nord. Ma è evidente, ma nel contempo il nostro territorio, al nostro territorio, alla nostra gente, al popolo del quartiere San Paolo di Bari, del quartiere di Apigio di Bari, al popolo di Scampia, al popolo di Zem, di Palermo, non riusciamo a dare, non riescono a dare alcuna risposta. E su quando mancano queste risposte, la gente avva mangià! Il problema nostro qual è? Il nostro problema alla mattina è alzarci e dire dobbiamo salvare l'Italia. Il disoccupato Vito Cioce che sta di là a vendere biglietti per i disagiati del quartiere Libertà, si alza la mattina e dice io non devo portare il pane a casa, io devo salvare l'Italia. Ma che cavolo, ma è possibile che dobbiamo continuare a nutrire i nostri disoccupati di pane tricolore? Noi siamo stanchi di questo! E il pane tricolore non è il prosciutto con la mozzarella e l'insalata, è ben altro. È ben altro. Noi ci nutriamo della voglia di far vincere la nazionale. Questo è il nostro problema. Il problema dei nostri giovani è seguire il grande fratello, ma non è possibile nemmeno questo. Ormai ci hanno tolto tutto, ma vi rendete conto di quello che sta accadendo in questi giorni? Dicono che bisogna salvare l'Italia e salvare anche le pensioni. Ma dove? I nostri giovani hanno già 30 anni, sono già vecchi a 40 anni, non hanno un bricciolo di assicurazione. Dove devono arrivare nella loro vecchiaia? Sono poveri i cristi oggi, poveri i disgraziati domani! E allora siamo anche stanchi di stare a subire le loro esercitazioni mentali di come risolvere i problemi del tutto pubblico. Non hanno idee, se non quelli di aumentare la benzina, non hanno idee altro che mettere le mani nel portafoglio degli italiani, degli italiani, del quale oggi comincio ad avere qualche difficoltà a pronunziare questo nome, di mettere le mani di depredare quei poveri cristi dei nostri pensionati con 500 euro al mese che non sanno come arrivare domani mattina. E danno poi delle piccole, lievi, mazzate a quelle che sono le istituzioni che più possono sprecare danaro, le province. E però non li tolgono forse, non completamente, forse li toglieranno, faranno delle commissioni, faranno queste cose e continueranno ad esserci. No! Noi dobbiamo batterci per la macro regione meridionale perché salavonna scia la casa, nu sacco dei cristiani! Devono andare a casa i portaborse, i mangiapagnotti, i consulenti! Sono soldi per i nostri disoccupati, sono soldi per i nostri lavoratori, sono soldi per le nostre imprese, sono soldi per le nostre banche! Questo è! Questo significa macro regione! E puoi dare alle province quello che è previsto costituzionalmente! Le province sono previste dalla Costituzione! E questi per legge intendono cancellarle! Ma vi rendete conto? Sarebbe anche bello cancellarle se forse è veramente utile! Non è utile nemmeno quello! Bisogna cambiare l'Italia a livello costituzionale in maniera molto più radicale, molto più profonda e non c'è nessuno in Italia! Salvo qualche eccezione al nord che dice ma che non fa e non faccio nome, che dice che non fa, non c'è nessuno al mondo! In questa Italia, in questa Europa, che ha i nostri messaggi, i messaggi della Confederazione Duosiciliana, il messaggio della riunificazione di un popolo, di togliere questa sciocchezza creata nel 1947 di suddividere il territorio meridionale in tante piccole sciocche regioni, una più morta di fame dell'altra! E abbiamo il sacro santo dovere di cambiare una linea politica, di far fuori i partiti nazionali che sono un'altra piaga purulenta della nostra nazione! e la nostra nazione, in particolare mi riferisco alla nostra nazione duosiciliana, a quella! Altri movimenti meridionalisti hanno, in questi mesi, hanno tentato aggregazione per colpa di questo signore, che ha fatto quel libro che di cui la maggior parte di noi già possiede, questo signore ci ha messo quelle spalle al muro, ricordate, in maniera molto elegante ci ha detto ma che fare! Bene, le persone di una certa intelligenza sanno cosa fare, per questo nasce la Confederazione, oggi è solamente un esempio, siamo quattro, forse cinque nel pomeriggio, ne saremo tanti in seguito, ma anche se le altre sigle non vorranno non è un problema, c'è un mondo che ci sta aspettando al di fuori di questa sala, ed è nostro, è il mondo della speranza, è il mondo della certezza, è il mondo delle cose da fare, è il mondo deciso che deve buttare fuori la marmaglia che ci distrugge da anni! Lo stare insieme ha creato delle possibilità in mani, in pochi mesi dalla nascita della Confederazione Duosigiliana sono stati fatti passi da giganti, Nando ha portato delle cose, Fiore altre, Antonio, io ancora altre, abbiamo prodotto una cosa incredibile, io devo dare onore e piacere per la prima volta, abbiamo delle imprese che fanno attenzione a noi, abbiamo Paolo Gaglione con noi di Radio Regno, sul canale 875, 87 noi di Sky, oggi in diretta, grazie a Paolo Gaglione e ai suoi mezzi. C'è stato recentemente un giornalista che mi ha chiesto in un'intervista che è stata sempre cortesemente pubblicata dalla trasmissione di Brigante sul canale 875, 879 di Sky, Italia Channel, viva Italia Channel, che mi ha chiesto, ma voi come vi mantenete? Siete dei massone, forse avete dei, e chi mi conosce sa dove sto da mattina a sera, i sacrifici di tutti i giorni, le piccole cose che possono dare sono a disposizione del popolo, e solo di quello in modo particolare loro hanno bisogno. E poi, e poi, e poi chiedo anche il sacrificio a mio figlio, di fare a meno di qualcosa che avrei potuto concedergli, e come me, tutti i miei compagni di strada, questo è, perché se avessimo avuto la potenza economica dovevamo stare ancora qui, ma avremmo cacciato Berlusconi a calci nel culo, un certo quant'anni! Questa è la verità, e non solo Berlusconi, è tutto il resto della pletora di questa gente che ci governa, che dice un sacco di chiacchiere, Vendola dice, e la dobbiamo dare l'acqua pubblica a tutti, e c'ha l'acquedotto pugliese privato, e va a tagliare l'acqua alla povera gente che non può pagare, che aumenta il costo dell'acqua ogni anno, che una famiglia numerosa non sa come poter pagare 200 euro di acqua, e comunque non può dire al proprio figlio di non lavarsi, eppure per due legislazioni consecutive, si è fatto eleggere quest'uomo su questa base, sull'acqua bene pubblico, Berlusconi ci aveva promesso un milione di posti di lavoro, i nostri disoccupati sono qua, Emiliano aveva chiesto, aveva promesso 30 mila posti di lavoro a Bari, e i nostri disoccupati sono sempre qui, se non la vuole nasce a casa, se ne devono andare, questo è il momento, sì è vero, convinceremo Lino Patruno, abbiamo cominciato a convincere, anche i nostri imprenditori, ci arriveremo anche alle nostre disgraziatissime banche, piccole che sono, daranno anche loro il loro grande contributo, ma dobbiamo muovere il popolo, il popolo deve essere con noi, e non mancherà tempo, con quello che ci hanno creato e ci stanno creando, ora festeggiamo il Santo Natale, e nessuno si accorgerà quasi di nulla, o comunque anziché comprare quattro capitone, o quattro anguine, ne prenderà uno e ne farà un pezzettino per uno in casa, ma dopo, ma dopo, cominciamo a vedere i risultati di questa politica, che deve salvare l'Italia, e non Vito Cioce, il nostro disoccupato, e non solo Vito Cioce, milioni di nostri disoccupati, allora, voglio dire, non devo ultimamente convincervi, ci ho messo anche un po' di patos in più, ma veramente sono le cose che sento, le sento da anni, ho subito tante cose, anche con l'amico Antonio Dell'Uomo, un tempo parlavamo alle piazze deserte, nei nostri paesi, dicevamo le cose che diciamo oggi, le dicevamo vent'anni fa, contro tutti, oggi abbiamo il piacere di guardarvi, di guardarci, di abbracciarvi, è arrivato il Facebook, benissimo, una santa cosa, maledettissima, nel momento in cui si aprono i dibattiti sciocchi fra persone che non si possono intendere su quelle quattro fredde righe, si devono intendere che si devono incontrare, abbiamo scelto questo posto, guardate, la Confederazione ha scelto di stare in questo posto, e non al pala sotterra, magari potevamo tirare fuori 50 euro personali in più, forse non ci sarebbero mancate, avremmo tolto un'altra giornata di cinema a mio figlio, però saremmo potuti andare a un'altra parte, no, qui, a San Paolo, con il popolo, e perché dovevamo stare insieme, dovevamo fraternizzare, oggi, il meridionalismo è un'altra cosa, e non è quello, come ho dichiarato poc'anzi a un'emittente televisiva ad Antenna Sud, e non è quello che possono spacciare, questo dobbiamo fare molta attenzione, un altro messaggio che dobbiamo portare porta a porta, non porta a porta del suo feste, per carità di Dio, lasciamo perdere, porta per porta, non è il meridionalismo della Polibortone, dei Miciche, dei Lombardo, non ci decino nodo, non dicono niente di nuovo, cosa hanno apportato da 40 anni che sono lì al governo, nel Parlamento, cosa hanno costruito per la nostra terra, e noi abbiamo fretta di raggiungere certi risultati, dobbiamo demolire questa gente, la dobbiamo demolire, ecco perché Nando dice bene, elezioni, non solo per partecipare e cercare di vincere, ma per partecipare, perché noi abbiamo una finestra spalancata e un popolo che deve sapere quello che la confederazione duosiciliana vuole, quello che la confederazione duosiciliana pretende e da ora in poi lo abbiamo giurato, lo abbiamo giurato in maniera intima, intima fra noi, ma siamo certi di quello che facciamo, con la nascita della confederazione duosiciliana le signore hanno avuto i fiori in precedente per un gentile pensiero di un brigante, un brigante vero che è un altro imprenditore tra l'altro, un imprenditore calabrese, anche qui c'è una nutrita presenza di Italia Prima calabresi, volevo dire, forse mi sono perso un attimo, però con i fiori alle donne volevo dire questo, è stato un pensiero del brigante scalzo che ha una grande ditta e un cuore grande quanto è lui e forse di più e però questa possibilità di dare alle donne il fiore mi consente di dire una frase scomposta e me la perdonate, da oggi con la nascita della confederazione duosiciliana so cazzo amare per tutto. Allora abbiamo chiuso i lavori della mattinata voglio ringraziare Lino Patruno per la gentilezza e per gli spunti interessantissimi che ci ha dato durante questa mattinata anche Paolo Guaglione che ha permesso una diretta sui canali 875 e 879 di Sky e naturalmente sul regno FM appuntamento allora oggi pomeriggio con gli altri movimenti che noi speriamo si confederino con noi grazie applausi